Prodotti a chilometro zero grazie a 18 produttori e produttrici del nostro territorio. Lo scorso 6 aprile è stato inaugurato a Pesaro il nuovo mercato coperto, iniziativa di Coldiretti, Pesaro Urbino e Campagna Amica, che arricchiscono così il ventaglio di possibilità per i consumatori finali di acquistare cibo di qualità direttamente da chi lo ha prodotto. Inauguriamo finalmente un mercato di Campagna Amica al coperto, dico finalmente perché siamo riusciti a farlo con grande forza e piglio dopo gli altri tre mercati che abbiamo fatto nei capoluoghi di provincia, di tutte le marche, così chiudiamo un cerchio per vendere i prodotti del territorio. Di fatto saremo aperti il giovedì e il sabato mattina dalle 8 alle 13. Di fatto ci sono i nostri produttori che portano sul centro di Pesaro, quindi in via Giolitti, le eccellenze del nostro territorio pesarese. Diversi prodotti offerti sui ricchissimi banconi degli agricoltori. Potete trovare dal pescato, perché abbiamo anche un produttore, un pescatore, che la mattina, alle 5 di mattina ci porterà il pesce fresco, poi abbiamo dalle ortofrutte, le carni di bovini, di suini, insaccati, affettati, ricotte, formaggi, derivati, ma anche un forno, quindi anche i pane e tutti i suoi derivati, fino ad arrivare agli oli, i vini, ai succhi. Per non farci mancare niente avremo anche la terza gamma, quindi anche prodotti congelati, quindi degli ortaggi congelati, o anche una rosticeria, quindi prodotti d'asporto per poi cucinare le nostre tavole. È importante accorciare al massimo la filiera, ha proseguito Di Sante stringere un patto di fiducia con la comunità e rafforzare l'economia del territorio. Inoltre, all'interno del mercato verranno organizzati corsi di cucina e show cooking, visite per scuole e lezioni di educazione alimentare. Numerosi anche i giovani produttori presenti. Sono la delegata dei giovani agricoltori della provincia di Pesaro e sono anche io un'agricoltrice. Essere agricoltore mi permette di sviluppare quelle che sono le mie passioni e di portare avanti i miei obiettivi con la mia impresa. Col Diretti occupa un ruolo importantissimo in questo, in quanto mi offre una grandissima consulenza, senza la quale non potrei sviluppare quelli che sono i miei obiettivi. All'interno di questo nuovo mercato coperto che si apre oggi nella provincia di Pesaro, si ha un grosso confronto tra i giovani agricoltori, la possibilità di avere un confronto tra i giovani agricoltori e anche con i consumatori che andranno ad acquistare i nostri prodotti. Ecco perché è un luogo importantissimo per noi.